Buongiorno a tutti, qui è Earth Major con un nuovo video. Qualche giorno che non mi sono più presentato con alcun video, perché sono parecchio preso con la correzione del mio libro, che parlerà della Terra Piatta, un libro in inglese. Spero che alcuni di voi avranno la possibilità di poterlo vedere e leggere. Ad ogni modo, io oggi vorrei parlarvi dell'esperimento di Michelson Morley. Se non avete ancora avuto l'occasione di studiarlo, dovreste farlo, perché non si può parlare di Terra Piatta se non si conosce l'esperimento di Michelson Morley. Michelson e Morley, alla fine del 1800, volevano verificare l'esistenza dell'etere. L'etere sarebbe il mezzo elastico, dotato quindi di caratteristiche meccaniche di elasticità e di inerzia, tali da permettere la propagazione dell'onda luminosa. Così come l'onda sonora, che è un'onda meccanica perché richiede la presenza di un mezzo, così come l'onda sonora viaggia all'interno di un mezzo elastico, che può essere l'aria, può essere l'acqua, può essere un mezzo solido, si credeva che anche l'onda elettromagnetica richiedesse un mezzo di propagazione. Si pensava che questo fosse l'etere, un mezzo molto fine, non percepibile, né mediante i nostri sensi, né con la vista, né con strumenti di misura, è formato da particelle chiamate eteroni. Si arriva però alla fine del 1800 e si va a fare questo esperimento. Michels e Morley prendono un interferometro che serviva per andare a misurare la velocità della luce e vanno a verificare la relatività galileiana sulle onde elettromagnetiche. Cosa vuol dire relatività galileiana? Se io per esempio sono su un treno e cammino su questo treno, la mia velocità sarà quella data dalla velocità del treno più la mia velocità. Questa somma è quello che noi siamo abituati a vedere. Se io invece cammino in direzione opposta, bisognerà fare la differenza. Questa si chiama relatività galileiana. Quindi prendono un interferometro con due rami, uno lo puntano nella direzione di rotazione della Terra su quel parallelo, quindi velocità che poteva essere di 1200 km orari, per esempio 1000 km orari, e l'altro invece in direzione perpendicolare. Uno quindi avrebbe dovuto essere influenzato nel suo percorso ottico dalla velocità della Terra in quel punto, in quel momento. I due rami ottici si sarebbero quindi venuti a sommare, a interferire l'uno con l'altro, e quindi si sarebbe ottenuta un'onda elettromagnetica risultante data dall'interferenza, dalla somma, delle due onde ottenute dai due percorsi ottici su direzioni differenti. Fatto questo, andavano a ruotare l'interferometro di 180 gradi in modo da avere questa volta un ramo in direzione opposta al percorso di rotazione della Terra. In questo modo il percorso ottico veniva a cambiare e si otteneva quindi un ramo in cui la velocità della luce andava a camminare in direzione opposta alla direzione di rotazione della Terra. Secondo la relatività galileiana si sarebbe dovuto vedere un rallentamento totale della velocità della luce e quindi un cambio delle frange di interferenza sul sensore che andava a misurare, a vedere l'onda risultante. Questo esperimento è stato fatto più volte, è stato ripetuto da Michelson e Morley e tutte le volte si è verificata la stessa cosa, cioè non c'era nessun cambio, nessuno spostamento nelle frange di interferenza in una o nell'altra direzione. Questo cosa voleva dire? Si sono trovati in un impasse perché questo poteva voler dire che la Terra era ferma ma ovviamente siccome noi siamo schiavi del sistema non possiamo andare a dire qualcosa che il sistema non tollera. Il sistema dice che la Terra è un globo che ruota attorno al Sole che ruota attorno al proprio asse, noi non possiamo dire viceversa. Noi dobbiamo accettare quello che dice la bestia del sistema. Si trovava la necessità, c'era la necessità quindi di trovare un'altra spiegazione, un'altra soluzione, addirittura dovete intervenire Einstein il quale arriva a dire assieme ai fisici di quel momento che l'Etere non esiste quindi non esiste un mezzo all'interno del quale l'onda elettromagnetica si propaga e quindi nel momento in cui l'onda si trovava ad essere generata da una sorgente in movimento a causa della rotazione della Terra non veniva a sentire alcun vento d'Etere generato dal movimento della Terra. Questo lo portò poi a concludere che la velocità della luce è indipendente dal sistema di riferimento da cui essa viene misurata. Questo vuol dire che la velocità della luce sarà circa 300.000 km al secondo indipendentemente dal sistema di riferimento. Questo cosa vuol dire? Che se io sono fermo e con una torcia accendo la luce questa viaggerà a 300.000 km al secondo. Se io mi trovo su un jet supersonico, su un missile, sto viaggiando a 20.000 km all'ora accendo la mia torcia in direzione del movimento del mio missile comunque la luce girerà, viaggerà a 300.000 km al secondo. Capite che questo voleva dire buttare all'aria l'intera relatività galileiana e così negli anni seguenti Einstein fu occupato a studiare la relatività che ne veniva fuori e i paradossi che venivano generati. Buttare via l'etere dunque si è rivelato essere una difficoltà enorme per la fisica di oggi che è diventata estremamente complicata, difficile da comprendere a causa del fatto che si è partiti da una base errata e cioè dal fatto che la Terra è in movimento quando in realtà essa è ferma. Ipotizzare che la Terra è in movimento e non accettare invece che la Terra potrebbe essere ferma è stato un grave errore per il quale la fisica moderna paga ancora oggi perché non hanno ancora capito quale sia la realtà. Noi sappiamo invece che la Terra è ferma e che quindi le frange di interferenza dell'interferometro di Microsoft e Morley non si sono mosse per il semplice fatto che non c'è alcuna differenza in una direzione o nell'altra in cui noi andiamo a posizionare questo interferometro. Fatto interessante è che Einstein si trovò poi a mal partito con la gravità e si rese conto che eliminare l'etere gli veniva a creare dei problemi così dovette reintrodurlo dalla finestra chiamandolo in un altro modo perché non avrebbe potuto accettare di reintrodurre l'etere da lui stesso eliminato lo chiamo spazio-tempo e tutti i fenomeni che in realtà sono dovuti a distribuzioni non uniformi di ettere nello spazio, quali per esempio la tensione elettrica quali per esempio la gravità, sono stati chiamati come stress dello spazio-tempo curvatura dello spazio-tempo. In realtà sono distribuzioni non uniformi di ettere nello spazio o movimento di eteroni o vento di ettere e con questa spiegazione si va a semplificare notevolmente l'intera fisica moderna si va a unificare la fisica quantistica con il resto della fisica. Vedremo ancora molte cose a questo proposito è un argomento estremamente interessante e grazie all'etere che riintroduce chi arriva a capire che la Terra è piatta avremo la possibilità di spiegare un'intera e vasta gamma di fenomeni tra cui la gravità. La gravità è un fenomeno estremamente difficile da spiegare per chi crede nella Terra piatta ci sono spiegazioni fantasiose che in realtà sono tutte basate sul principio di Archimede ma in realtà non sanno spiegare come si genera la gravità sulla Terra piatta vedremo che questa può essere spiegata grazie al concetto di ettere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!